Gentili telespettatori, buona giornata. Forte scossa di terremoto di magnitudo 6,4 in Albania. 18 le persone decedute e centinaia di feriti. L'epicentro tra Durazzo e Tirana. Scossa di magnitudo 6,4 avvertita anche in Puglia, Campania e Basilicata. Si scava sotto le macerie. L'Italia invia uomini e mezzi. E' salito 18 il numero delle vittime accertate nel violento sisma che questa mattina ha colpito l'Albania. Secondo il sito di notizie Balkan News, tra le vittime ci sono due bambini. Finora sono 41 le persone estratte vive dalle macerie, ha fatto sapere il premier Eddie Rama. Sul campo sono stati dispiegati circa 1900 agenti di polizia per assistere la popolazione colpita dal terremoto. La terra continua a tremare. Una nuova scossa di magnitudo 4,8 della scala Richter è stata registrata in mare a nord di Durazzo. La scossa di magnitudo 6,4 è avvenuta poco prima delle 4 del mattino. Secondo il servizio geologico statunitense USGS, l'epicentro è stato a circa 10 chilometri da Shikak, tra Durazzo e la capitale Tirana, a 10 chilometri di profondità. Le immagini rimbalzate sui social media mostrano case distrutte e gente scesa in strada in preda al panico. Lo scorso 20 settembre una scossa a magnitudo 5,6 aveva colpito la stessa zona danneggiando circa 500 edifici. Era stato definito il più forte terremoto degli ultimi 30 anni in Albania. Diverse persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie a Durazzo e Tumana. Le immagini dei Siri TV mostrano soccorritori che scavano a mani nuda tra le macerie. Un uomo di una cinquantina d'anni in preda al panico per il terremoto si è buttato da un edificio nella città di Kurbin ed è morto. Il violento terremoto in Albania ha causato gravi conseguenze e sfortunatamente ci sono delle vittime, ha scritto Rama sui social, aggiungendo che tutte le strutture statali sono al lavoro fin dai primi momenti successivi al sisma. Si lavora intensamente per salvare ogni vita possibile in alcuni punti critici. A Durazzo e Tumana prosegue il presidente del consiglio che invita la popolazione a mantenere la calma e a sostenersi a vicenda. Rama ha annunciato alla stampa che si cercherà immediatamente a Durazzo la più colpita del terremoto. Conte invia uomini e mezzi. L'Italia è vicina all'amico popolo albanese duramente colpito dal terremoto. All'alba ho sentito il premier Edirama e ho subito disposto l'invio di uomini e mezzi di soccorso. Squadre di vigili del fuoco, personale della protezione civile e Croce Rossa stanno partendo in queste ore, scrive il presidente del consiglio Giuseppe Conte su Twitter. Un centinaio di unità tra operatori e tecnici sono già partiti per l'Albania per dare sostegno e aiuto in una situazione così difficile. In seguito al terremoto ha detto il ministro dell'interno italiano Luciana Lamorgese. Per il terremoto in Albania abbiamo attivato l'unità di crisi della Farnesina. Stiamo monitorando tutto, al momento non risultano italiani coinvolti, ha affermato il ministro degli esteri Luigi Di Maio intervenendo ad Agora su Rai 3. Terremoto avvertito anche nel sud Italia. Il terremoto avvertito in Puglia, Campania e Basilicata. La scossa di terremoto delle ore 3 e 54 è stata avvertita anche in provincia di Bari, Bat, Barletta, Andrea, Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, ha tweetato il governatore della Puglia Michele Emiliano. Oltre 300 segnalazioni sono giunte solo alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecce, la maggior parte delle quali dallo stesso capoluogo. Al momento non sono stati rilevati danni. Forte è stata invece la prensione dopo che nelle case hanno cominciato ad oscillare i lampadari e a vibrare vetri e mobili. Intorno alle 7 del mattino, sempre nel Salento, è stata avvertita una scossa più lieve. Paura anche in Basilicata. Matera, capitale europea della cultura, si è svegliata di soprassalto. Le case hanno ondulato per 30 interminabili secondi e il pensiero è corso al terremoto del 1980 e al 39esimo anniversario del 23 novembre scorso, quando il sisma in Irpinia travolse anche la Basilicata. I letti sobbalzavano e le finestre si sono spalancate. Le prime testimonianze corse in piena notte sui social. Tanti sono scesi in strada in preda al panico anche perché 30 minuti dopo c'è stata un'altra discossa di terremoto di uguale intensità. Paura nei piani alti della periferia della città e nella zona di Via Levi, Via Castello e Via Annunziatella. Nel Salernitano e nel Napoletano diverse le chiamate al 115 e i post sui social network per chiedere informazioni. L'Istituto Nazionale Italiano, l'INGV, dice che è l'inizio di una sequenza. Aspettiamoci altre forti scosse. Il terremoto di magnitudo 6.5 che questa mattina alle 3 e 54 ha colpito la costa settentrionale dell'Albania vicino a Durazzo. È stato l'inizio di una sequenza. È possibile che arrivino altre scosse piuttosto forti, afferma all'Aggi il sismologo Alessandro Amato, responsabile del centro allerta tsunami dell'INGV. Nelle ore successive alla prima scorsa ne sono arrivate altre due di magnitudo superiore a 5, sottolinea Amato, e poi decine di intensità più lieve. Dall'altro canto il terremoto della notte scorsa in Albania come intensità è stato pari a quello di Norcia dell'ottobre 2016 che, come sappiamo, ha avuto decine di migliaia di repliche. Per l'Istituto Italiano INGV è stata una notte impegnativa. Sette minuti dopo il sisma, in forma Amato, il centro tsunami ha diramato alla protezione civile un'allerta per rischio tsunami in Albania e Montenegro e in seconda battuta anche per l'Italia. L'allerta è stata cancellata questa mattina poco prima delle 7, quando i dati dei mareografi hanno indicato che il livello dei mari non destava preoccupazione. Questa mattina si è verificato un secondo evento sismico, oltre a quello dell'Albania. Una scossa di terremoto di magnitudo 5.4 è stata registrata alle 10 e 19 minuti primi in Bosnia-Herzegovina. Si tratta di un terremoto 30 volte più piccolo di quello che ha colpito Durazzo, spiega il sismologo, e si è verificato circa 200 chilometri più a Nord, in un'altra area di faglia. Eventi che non sorprendono. I sismologi conoscono bene i processi di quell'area. Tutto il sistema adriatico dalla parte dei Balcani è attraversato da sistemi di faglie compressive, evidenzia Amato. È in atto un fenomeno di raccorciamento della crosta dovuto ai movimenti della placca adriatica. E questo fenomeno interessa tutta la fascia costiera, a partire dalla Slovenia fino alla Grecia. I numeri sono indicativi. Negli ultimi 100 anni nell'area balcanica si sono verificati 7 terremoti di magnitudo superiore a 6. Il più devastante, di magnitudo 6.9, colpì il Montenegro il 15 aprile del 1979 e causò 101 morti e 1.700 feriti. Facendo una breve ricapitolazione, il terremoto in Albania ha fatto 18 morti accertati fino a questo momento. Centinaia sono i feriti. Epicentro a Durazzo e Tirana. La scossa di magnitudo 6.4 alle 3.54 di questa mattina, avvertita anche in Puglia, Campania e Basilicata. L'Italia invia uomini e mezzi dopo che il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte ha sentito telefonicamente il premier albanese Rami e così ha inviato diverse squadre di vigili del fuoco, protezione civile e Croce Rossa italiana. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Se ci sono ulteriori informazioni su questo terremoto in Albania sarà mia premura farvelo sapere. Vi invito ad iscrivervi al canale dove l'iscrizione è gratuita e nella community potete partecipare a tanti sondaggi, potete commentarli e potete anche lasciare un vostro commento. Siamo anche sulla pagina Facebook Tele Italia Notizie dove sono presenti tutti gli stessi video che ci sono su YouTube. Li potete assolutamente condividere sia in Facebook, sia fuori da Facebook, sia in Internet e anche fuori da Internet. Grazie per avermi ascoltato e vi auguro buon pomeriggio e buona serata. Arrivederci e grazie al prossimo video.